Spezzare il legame tra debiti sovrani e debiti bancari, questo l'obiettivo ribadito dai ministri delle finanze europei che hanno confermato le decisioni prese nell'ultimo vertice dell'Unione a difesa della stabilità finanziaria. Tra queste il cosiddetto meccanismo antispread, di cui l'Italia potrà avvalersi, come ha spiegato il Premier Monti, perché è un paese in regola con le raccomandazioni europee. Quanto alla Spagna, Madrid ha ottenuto un anno in più per raggiungere gli obiettivi di bilancio e la prospettiva di arrivare a una ricapitalizzazione diretta delle banche, in cambio dell'impegno a nuova austerità. Il commissario europeo agli affari economici, Oli Ren, ha affermato, ho fiducia, che le autorità spagnole adotteranno misure convincenti nell'arco di tempo concordato. Questo sarà un forte segnale che la Spagna è determinata ad andare verso una spesa pubblica e una crescita sostenibili e verso l'occupazione. L'ammontare degli aiuti per le banche spagnole sarà però quantificato soltanto a fine luglio. I ministri dell'Ecofin ritengono che Madrid sia avviata verso la stabilizzazione, dice l'inviata Natalia Richardson. Resta da vedere se i mercati condividono.